Ciao, sono Raquel. In questo momento non posso risponderti. Sì? Mi scusi se la chiamo di nuovo. Sono la madre di Raquel. Dato che l'ho vista così vicino a mia figlia, è che ho un messaggio urgente da parte del vice ispettore Ankel e non riesco a contattarla. È insieme a lei? Ora no, però la vedo tra poco. Se vuole posso riferirglielo io. Sembrava una cosa importante. Qual è il messaggio? Aspetti, glielo leggo. Ecco. Sì, ce l'abbiamo in pugno, ce l'abbiamo. Abbiamo il bastardo che li sta aiutando dall'esterno. Sì, è quello del Sidro. Era lui all'autodemolizioni. È stato lui a minacciare il russo. Vengo alla tenda e ti racconto tutto. Non si preoccupi, ci penso io. Ah, meno male. La ringrazio infinitamente. Grazie ancora. Di niente. Buongiorno. Salve. Mi dica. Sono Salvador, l'amico di sua figlia. Prego, entri pure. Grazie. Grazie. Esistono diecimila modi per uccidere una nonna. Ma il professore non era un sicario. Era più un giocatore di scacchi. Poco a suo agio nel mondo del crimine. Così scelse l'opzione più pulita e intelligente. Versare due milligrammi e mezzo di diossina nel caffè della nonna. 3 cucchiaini di zucchero e uno di diossina. 15 minuti dopo l'arresto cardiaco. Senza segni di violenza e di effrazione e vista l'età della vittima, non ci sarebbe stata autopsia e il professore lo sapeva. Mia figlia non ha passato la notte qui. Era con lei? Per la verità, sì. Ieri... Ieri ci siamo visti. Bene. E... Mia figlia ha proprio bisogno di qualcuno che la ami e che faccia l'amore con lei. E lei sembra un brav'uomo. Oddio, mi scusi, mi è caduta la tazzina. Sa com'è con gli anni? Si diventa maldestri. Mi scusi.